Valleggio sul Mincio è una città medievale di confine tra il Veneto e la Lombardia, zona di antico confronto tra gli scaligeri e i visconti. Parlata, tradizioni e memorie storiche fanno appartenere Valleggio alla cultura lombardo-veneta. Sorge sull'antico guado del Mincio, diventando con la frazione di Borghetto un incrocio fra la via d'acqua e la via di terra. Ed è sul ponte di Borghetto che unisce le due sponde e che si perpetua la degustazione del rinomato e tipico prodotto della cucina valeggiana con il giudizio di 3.500 commensali. È un progetto questo promozionale? Certo, è un progetto che va avanti da tanti anni, al 23esimo anno. L'associazione Ristoratori con questo evento ha portato il tortellino a essere famoso in tutta Europa. Penso che metà degli ospiti siano stranieri, quindi un grande evento per Valleggio che veramente porta tutto il comparto dell'enogastronomia e quindi non solo perché poi quando le persone vengono qua a mangiare, conoscono il territorio, lo gustano in bicicletta, a piedi, in tutti i modi possibili. Il caratteristico tortellino di Valleggio, un involto di fine sfoglia che racchiude una ricetta di carne e aromi, è nato come tipico prodotto della cucina popolare nell'Ottocento. Molti anni fa qui venivano fatti anche gli scambi dei cavalli e delle carrozze. In queste piccole osterie che c'erano già allora venivano serviti questi tortellini. E veniva fatta anche un'aggiunta, è una cosa che diciamo raramente, però aggiungevano anche il vino rosso, il vino rosso nel brodo perché i tortellini venivano serviti esclusivamente in brodo di cappone, brodo di pollo o gallina, quello che si trovava. E dentro ci mettevano questo vino rosso e è da allora che serviamo i tortellini a Valleggio. La leggenda del nodo d'amore nasce nel 1993, 23 anni fa, per intuizione del maestro orafo veneziano Alberto Zucchetta, naturalizzato veronese, il quale ha anche creato una scultura rievocativa e il piatto ricordo. La scultura costituisce anche il motivo del premio giornalistico internazionale, assegnato quest'anno a Carlo Cambi, giornalista enogastronomico, mentre il premio alla cultura musicale è stato assegnato al giovane pianista Alberto Nosè e al soprano austriaco Eva Linde, premiato anche con targa Gigi Gandini, maestro acconciatore. Tanta fantasia in questo tuo progetto. Beh c'è tanta fantasia e soprattutto la necessità di trasmettere sia ottimismo, amore, perché come dice il nostro titolo, credo che siano tra i valori che oggi più abbiamo bisogno. Il colpo d'occhio sulle lunghe e interminabili tavolate è unico. Il pubblico di oltre 3.500 commensali è costituito da operatori del settore turistico ed enogastronomico di Mezzomondo, da scrittori, critici e studiosi dell'arte culinaria e giornalisti di riviste specializzate di tutta Europa. 300 camerieri hanno servito in più portate oltre 600.000 tortellini e vini di oltre 3.000 bottiglie di custozza, bardolino, prosecco, radeschi. Il tutto in una cornice di folklore, storia e cultura. Un evento che al calar del sole, quando le ombre prendono il sopravvento, la sera viene illuminata dalle geografie di luce disegnate in cielo dai fuochi d'artificio.